Anch'io Manuela Mölk vorrei mandare a tutti voi un carissimo saluto e sono molto contenta che anche quest'anno, anche con la situazione difficile e delicata, siete comunque riusciti ad organizzare il 24esimo premio internazionale del Fair Play e vi auguro a tutti una buona giornata, un buon premio e ripartiamo più forti che mai, sosteniamo lo sport. Un saluto!